Buongiorno, sono il dottor Gordini Davide, sono specialista ortopedico dal 2009, mi sono formato professionalmente presso l'Università degli Studi di Genova e dal 2009 sono libro professionista. Prevalentemente la mia attività consiste nella chirurgia protesica e di ricostruzione del ginocchio, quindi sia nella chirurgia ad ampio spettro sui traumi sportivi, sia nella chirurgia della patologia degenerativa del ginocchio. Dal 2009 lavoro in una equip che mi ha permesso di poter curare il particolare relativo appunto alla patologia del ginocchio e questo fa parte un po' del mio essere perché provenendo da un ambiente sportivo, io giocavo a pallacanesto a buon livello, ho imparato che la cura del dettaglio e del particolare è un buon viatico per ottenere degli ottimi risultati.